salve capo buongiorno paola purtroppo ti devo comunicare che nell'ultima missione c'è stato un problema i blond brado sono stati rapiti e abbiamo perso la valigetta no si purtroppo abbiamo dovuto fare una trattativa molto serrata per la valigetta cavolo invece per i blond brothers non abbiamo più notizie non sappiamo dove siano finiti no cavolo a questo punto devi entrare in azione oggi stesso e devi recarti a cremona precisamente nel circuito di cremona dove abbiamo individuato la valigetta e lì verrai coadiuvata da un nostro agente che si chiama margaret dall'ospedale ok capo entro subito in azione maghi maghi hai localizzato l'obiettivo si paola abbiamo localizzato l'obiettivo si trova nel camion sui sinfoni tira giù tira giù ma allora la fashion week quest anno la facciamo o no? ma sì dai ci andiamo insieme sì, giusto qualche sfilata per dire che eravamo presenti ma sì, dai aspetta che mi sta sfilando il telefono è il capo, Maggie bene, Bloggins, complimenti per l'ennesima missione riuscite in maniera eccellente siete sempre le migliori, devo dire e adesso la valigetta dovrete consegnarla al mio collaboratore russo che è Dimitri Popov gliela consegnerete a lui l'unico problema è che dovete, per non dar troppo nell'occhio dovete fare finta di essere dei meccanici quindi, tanto penso che voi vi intendete di meccanica benissimo siete delle esperte quindi giù nel team Porsche cercate di non dare nell'occhio dopodiché eclissatevi ok, va bene? va bene ok, capo senti, ma io voglio sapere una cosa quando ci incontriamo per un bel aperitivo ti vogliamo vedere? infatti ragazzi, guardate a me piacerebbe tantissimo però lascio a voi il divertimento io purtroppo in questo periodo sono in un altro pianeta stiamo progettando sono su Marte stiamo progettando un albergo un villaggio turistico su Marte perché ragazzi, questo è il futuro comunque alla prossima missione ragazzi complimenti noi ci contiamo bene, grazie alla prossima grazie a tutti Allora Maggie guardiamo il problema, allora qui è un problema o di centralina o di film Ascolta, passami una chiave inglese Maggie, persi un calciavete Grazie 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 Grazie